Ho visto parole anche che non la ripeto perché non è giusto, perché non è corretto nei confronti del pubblico, però lei stessa lo ha detto. Sì, ma ci focalizziamo sempre sull'epilogo di una cosa. No, Alex, è quello che è registrato questo, non è che... Sì, ma invece ci sono state 24 ore su 24, notate, passate a qualche cosa. Ma perché continui a negare? Dillo, tanto l'hai tradita, l'ho tradita, scusatemi, l'ho tradita, ma non devi chiedere... Ma perché ascoltami, Alex, sai cosa? Io te lo dico, io sono assolutamente ben disposta nei tuoi confronti. Fai tu brutta figura, Alex. Ma io non voglio fare brutta figura di niente. Credimi, perché un giorno dici una cosa, un giorno ne dici un'altra. No, ascoltami Silvia, io non dico assolutamente niente, sono tre mesi che continuo a dire le stesse cose e io e Sole continuiamo a dire le stesse identiche cose in una coerenza incredibile. Ma se ci hai detto che c'è stata intesa erotica, come fai a dire adesso che non avete avuto niente? Ma guarda, ti dico molto semplicemente, così la chiudiamo perché poi alla fine vi sto anche stufando. Tra me e Sole c'è una grandissima complicità. C'è una complicità che è andata anche in una fase erotica. E più di dirvi questo, non so che cosa dirvi. Noi la vogliamo tenere in questo modo. Abbiamo raccontato una bellissima storia che può essere non catalogata solo nella storia d'amore. Ma vedi che dici sempre le stesse cose, però l'hai detto anche prima questo, eh.